vi faccio vedere i cammei che sono arrivati ieri questo è il primo questi sono gioielli in metallo rodeato e placcato oro perché ovviamente abbiamo cercato di fare delle fatti a mano è comunque il metallo è tutto lavorato a mano abbiamo cercato di ridurre i costi e fare degli oggetti un pochino meno costosi un po più abbordabili poi c'è questo cambia il modello e cambia anche il cammeo poi questo e questo questi sono i bracciali no questo scusate al contrario questi sono i bracciali mentre poi sono arrivati anche gli anelli è arrivato questo preso tutti i cammelli con visi quindi questo 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 che è un cammello un po più su rosa questo che invece sono fiori è un fiocchetto sostanzialmente e poi questo che è un anello un pochino più complesso perché c'ha un cammeo e poi c'è la perla e un pezzo di corallo quindi questo è sempre metallo rodeato e dorato non è argento però questo metallo se voi adesso io non lo sto vendendo a voi ma dico in generale i metalli così placcati e rodeati se non vengono trattati con del profumo con delle lacche col sudore soprattutto della pelle perché alcuni hanno la pelle molto corrosiva e non vengono usati per fare bagni per lavare insomma si portano si mettono si ripuliscono con un panno durano una vita belli lucidi così se no se perdessero un po di rodeatura si possono sempre fare bagnare nel rodeo non costa tanto cioè si si fanno bagnare e basta va solo smontato la cammeo perché sennò viene rodeato anche il cammeo però diciamo che questi oggetti sono ovviamente non sono cammei di una perfezione estrema sono cammei di un valore medio direi insomma per fare questo genere di oggetti che non hanno la presunzione di essere sull'argento quindi sono stati fatti dei cammei un po con i più semplici che comunque soddisfano il piacere di avere un cammeo al dito io li ho scelti per cambiare un pochino genere e non offrire al pubblico sempre solo cose in argento perché questi sono ovviamente molto più abbordabili e comunque uno a cui piace il cammeo si porta a casa comunque un bel cammeo e non ce ne sono in giro e perché poi questi sono cammei tutti fatti diversi per cui preso uno non è che se ne trovano dieci uguali si può trovare qualcosa di simile ma mai di uguale perché i cammei non vengono mai uguali quindi anche sui cammei vi ho un po' erudito questi sono cammei originali perché me li hanno portati ieri a Livorno da Napoli e con questo signore penso che lavorerò perché fa delle cose che possono avere anche gli stessi cammei in argento ovviamente il prezzo non è tanto superiore diciamo una decina di euro in più però se uno proprio lo vuole d'argento lo so lo fa montare d'argento però io a questo punto se dovessi comprare un cammeo d'argento allora sceglierei un cammeo un po' più rifinito cioè con la definizione dei dettagli rifiniti perché qui faccio vedere il cammeo di questo bracciale questa è una donna con una treccia con i fiori i capelli tutto quanto però vedete che comunque il lavoro è bello il viso è fatto bene no quindi denota comunque una bella esperienza di chi fa i cammei perché la cosa più difficile è fare il naso e il viso però è un cammeo con pochissimi particolari e quindi il costo è molto più basso io per esempio per fare un cammeo su argento sceglierei un cammeo un pochino di livello superiore e questo signore li fa li fa di tutti i tipi ora lui ha lanciato questa moda di farli in metallo perché li sta vendendo perché costano molto meno e un bracciale così costa 35 euro cioè veramente io lo vendo a 45 comunque costa 35 euro circa al cliente mentre un anello ne costa su 30 così senza essere in argento se è in argento ne costa 40 però ripeto qui siamo prezzi da bigiotteria 20-30 euro queste sono cose che le pagate dai cinesi e invece sono oggetti fatti a mano con tutta la lavorazione anche del metallo perché il metallo non è che lo comprano fatto e lo adattano lo fanno loro lo forgiano loro lo saldano e poi lo bagnano quindi il lavoro comunque c'è sia fatto in argento sia fatto in metallo il lavoro c'è cambia solo che il metallo è diverso però il lavoro praticamente di questi cammei tra l'altro hanno una particolarità di questo cammei di questo artigiano che non li incolla io lo apprezzo molto quando non vengono incollati ma vengono graffettati come in questo caso tenuti qua così oppure questo per esempio questo tipo di graffette ma non usa la colla la colla rovina i cammei io non sono per i cammei incollati non mi piacciono i cammei incollati questo è bombato leggermente più sporgente anche questo l'ha fermato davanti e dietro in maniera che non si muova così come negli anelli nel particolare anche qui ha fatto delle graffettine non so se si vedono e dietro è fermato però gli anelli fatti bene non devono essere incollati vedete qua ha messo una perla e l'ha fermata qui ha messo un cammeo e l'ha saldato vabbè in questo caso perché era fatto materiale metallico anche il corallo qui non è incollato è tenuto fermo da una graffetta questo io come lavorazione la preferisco al cammeo incollato perché si fa presto a incollare un cammeo invece ci vuole più lavoro a fare queste cose con questo lavoro di graffettatura fatta a mano quindi vi ho dato anche una riduzione su qualcosa di nuovo che magari non avete mai visto quindi vi ho detto vi ho detto vi ho detto